Sei in possesso di un fondo integrativo sanitario o di una polizza malattia e infortuni generali? Presso il nostro centro puoi usufruire di vari servizi, visite mediche specialistiche, fisioterapia e riabilitazione, esami diagnostici come risonanza magnetica ad alto campo, tacca ad alta risoluzione, radiografia, mammografia, moche per densitometria ossea, ecografia, ecodoppler, ecocardio, oltre cardiaco e pressorio. Per informazioni e chiarimenti chiamaci, saremo lieti di offrirti il supporto di cui hai bisogno. Ti aspettiamo!